Migliori settaggi da impostare su Fortnite tramite il pannello di controllo di Nvidia e l'applicazione Nvidia App. Quindi questa è una configurazione per le schede grafiche Nvidia su Fortnite. Ovviamente in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina del pannello di controllo di Nvidia. Lo scarichi, lo installi, tanto non ci vuole niente e poi ti uscirà in basso a destra ed eccolo qua. Se non c'è qua basta che lo scrivi qua sopra, pannello di controllo, eccolo qua, Nvidia Control Panel, quindi faccio il tasto destro sopra, pannello di controllo Nvidia. Una volta fatto andiamo così a impostare tutti questi settaggi su Fortnite, quindi vai su gestisci le impostazioni 3D. Impostazioni programma e aggiungi così Fortnite, sfoglia, va nel tuo disco, vai così a prendere Fortnite, Fortnite Game, Binanis, W64, Fortnite Launcher.exe, se non dovessi funzionare con questo prova Fortnite Client 1.64 Shipping.exe, quindi prova tutti e due. Metto questo qua. Una volta fatto qui adesso possiamo impostare i settaggi. Ora, con il ridimensionamento immagine che sarebbe la nitidezza, puoi mettere disattivato, oppure se metti attivato lo imposti sul 30% e fai ok. L'altro passaggio sulla correzione gamma, metti attivo, disattivato, anti-LS modalità, controllato dall'applicazione, quindi puoi farlo tutto attraverso l'applicazione, migliora l'impostazione dell'applicazione, oppure escludi questa impostazione dell'applicazione. Io metto tutto controllato dall'applicazione, quindi farà tutto automaticamente. L'anti-Lasing trasparenza, metti disattivato. Buffering triplo, metti disattivato. Gli FPS li vogliamo illimitati, non fissi. Ora questi li possiamo saltare. Compatibilità OpenGL, metti automatico. Filtro anisotropico, ed eccolo qua. Filtro anisotropico, metti 2x. Filtro struttura, metti consenti. Filtro struttura, ottimizzazione campione, metti attivato. Filtro struttura, ed eccolo qua. Filtro struttura, metti prestazioni elevate. Ottimizzazione trilineare, metti disattivato. Fotogrammi pre-renderizzati, metti 1. Frequenza fotogrammi massimamente disattivato, e fai ok. Puoi anche impostare fino a 1000 FPS, ma non credo che farai 1000 FPS. Però, 200-200, con impostazioni grafiche tutte basse, puoi arrivare sopra i 200 FPS. Però, io ti consiglio di mettere disattivato. Questo lo saltiamo. Modalità bassa latenza, metti ultra. Multi-frame lo saltiamo. Ottimizzazione con trilineare, lo saltiamo. Sincronizzazione verticale, metti attivo. No, questo qua è il V-Sync, quindi ti blocca gli FPS, quindi metti disattivato. Tecnologia monitor compatibilità G-Sync. Velocità di aggiornamento preferita, la più elevata disponibile. Una volta fatto, fai applica. Se su Fortnite non ci sono cambiamenti, come ho detto all'inizio, al posto di Fortnite Launcher, inserisci quello là che finisce con shipping.exe. E rifai da capo la procedura delle impostazioni. Una volta fatto, chiudi così il pannello di controllo di Nvidia, e adesso andiamo direttamente sull'applicazione Nvidia App. Sempre in descrizione, devi scaricare l'applicazione Nvidia App Beta. Quindi vai a prendere l'applicazione Nvidia App, vai su Grafica, vai a prendere Fortnite, ed eccolo qua. Ora andremo così a modificare le impostazioni direttamente nel gioco, quindi vai a mettere Ottimizza. Metti Prestazioni, fai Aggiorna. Queste qua sono rimaste uguali, quelle che abbiamo, inserito così sul pannello di controllo di Nvidia, e ha cambiato solamente questo. Mettendo Illuminazione Corvalare Disattivato, Mesh Disabilitato, Effetti Basse, e basta. Il V-Sync Disattivato, migliorando così gli FPS, tenendoli illimitati e non fissi. Distanza di visualizzazione, se lo trovi su Fortnite, metti Medio, perché sennò non vedrai quasi nulla da lontano, neanche i giocatori. Ovviamente nella playlist in alto a destra ci sono altre guide su Fortnite, e anche un video su come aumentare, ma veramente aumentare, di parecchio gli FPS. Sono riuscito a portarlo fino a 350 FPS con l'applicazione Nvidia Profile Inspector. Inspector, eccola qua. C'è proprio un video in alto a destra su come aumentare gli FPS con Nvidia Profile Inspector. Una volta fatto vai direttamente su Epic Games. Vai nella libreria e vai su Fortnite. Tre puntini. Ed eccolo qua, opzioni. Togli così la shader DirectX 12. Se vuoi aumentare gli FPS, togli così questa shader DirectX 12. E basta. Questa invece fa la rimanere per inserire nuove impostazioni, per migliorare la grafica, oppure ridurla e migliorare le prestazioni. Prescarica le risorse trasmesse. Questa tienila attiva e fai applica. Per ora i server di Fortnite sono offline, quindi non posso provarlo. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.